Su Sky nascono quattro nuovi canali, tutti da scoprire. Sky Serie, Sky Investigation, Sky Nature e Sky Documentaries. Sky Documentaries ti racconta le icone, le leggende e i momenti che segnano il tempo. Scopri le storie che cambiano il mondo. Sky Documentaries, dal primo luglio un nuovo canale. Guardalo, prova SkyQ a 9 euro per 30 giorni.